Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo piccolo unboxing. Un po' di chicche interessanti sono arrivate e comincerei magari da questo pacchettino che ho scritto PCBWay. Visto che fanno anche, oltre alle PCB, anche lavorazioni di metalli, piegatura di lamiere, lavori con CNC. Mi sono fatto fare dei pezzacci di Defero, proprio Defero massiccio, che mi serviranno per un progettino. E qual è questo progettino? È questo stesso tavolo, che è una vita che continuo a rimandare. Perché sapete che quando mi sono trasferito in questo nuovo studio ho comprato questo bellissimo pianale di OSB, però non doveva fermarsi qui il progetto. Intanto avrei dovuto stabilizzare tutti i bordi con la resina per evitare che restino le schegge di legno che si impiantano nelle magliette. E questa cosa della resina in realtà l'abbiamo fatta, adesso è tutto... si può accarezzare senza morire. L'altra cosa era mettere le gambe da standing desk che avevo chiesto a Flexispot, quelle che tirano su 400 kg e che permettono al tavolo di stare a diverse altezze. È uno standing desk, quindi si può lavorare da in piedi, cosa che non fa male alla salute. E poi le ruote, perché questo pianale io già da solo con una persona sola non riesco a tirarlo su. Pesa, boh, peserà 50-60 kg, forse qualcosa di meno, ma non tanto di meno. E il problema è che è enorme, quindi non riesci a prendere una mano di qua e una mano di là e a tirarlo su così. Già lui faccia molta fatica a manovrarlo da solo. Immaginatevi se sta sopra delle gambe di metallissimo, ciascuna singolarmente motorizzata e fatte per sollevare fino a 400 kg di peso. Diventa un tavolo estremamente pesante e l'unico modo per movimentarlo è mettere delle ruote. Anche se super heavy duty, che sono queste ruote qua, che vedete con questo gancio, ho scelto delle ruote che hanno il gancio così, non tanto per frenarle, quanto per innescarle. Perché non voglio che il tavolo sia sempre sulle ruote, che cosa vuol dire? Mi appoggio qua mentre sto facendo un video e il tavolo se ne parte via. Ma c'è proprio questo sistema di ruote che praticamente se ne stanno alzate e poi quando tu vuoi vai col piede e le tiri verso il basso e a quel punto il tavolo diventa ruotato. Poi le tiri verso l'alto e il tavolo si riappoggia sui propri piedi. Molto belle, peccato che mancava un modo per attaccarle al tavolo. Vedete questa squadretta AL? Questo è PLA, è plastica, stampata in 3D, stampata con la Bambulab. Era un prototipo che abbiamo fatto, ma qua dentro in teoria dovrebbe esserci l'equivalente realizzato in ferro. Vediamo un po'. Nice! Powder coated dipinte a polvere, nel senso già verniciate di... Ah che sexy! Tutto smussato, la piegatoria... Sono delle squadrette, in pratica sono delle squadrette estremamente heavy duty con tipo 4 mm di spessore di ferro e che permetteranno di montare le ruote sul tavolo senza dover traforare con il trapano dove ci sono i motori e rischiare di distruggere tutto. Molto molto sexy! Le richiudo e ci penseremo nel video dedicato. Numero 2! Questo video di oggi è un unboxing un po' strano perché secondo me questa cosa qua ci porterà via un po' di tempo, ma è una vita che voglio montarla. perché ho visto troppi video su YouTube di incidenti, di gente che cerca di scammare l'assicurazione facendo gli incidenti apposta, cose strane. E quando 70 Mai, che è un brand super premium di dashcam da macchina, mi ha scritto, mi ha chiesto se volevo le loro dashcam, gli ho detto, hey ma datemi una! E me ne hanno mandato due a quanto pare. Eccoci qua, allora, 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 sì, sono due dashcam separate più questo deve essere tipo un cavo extra per il collegamento. Ah, 4G hardwire kit? Non so, adesso capiamo. Partiamo da questa. Paradossalmente mi sono visto un po' di recensioni su YouTube e 70 Mai sembrava il brand che lavora meglio. Ah, questa qua è quella 360 nuova che hanno fatto. Lo diresti che questa cosa è una dashcam da macchina? Guarda che bel feeling, che bella estetica anche, con questi tasti rossi, l'accent nero e il resto matte grey. È proprio un bel prodotto. Allora, cosettino dell'accendisigari. Cavo infinitamente lungo, deve essere semplicemente un cavo USB lungo 4 metri, tipo per arrivare dall'accendisigari fino a dove devi attaccare la dashcam, che di solito è in corrispondenza dello specchietto retrovisore centrale della macchina, salendo per tutto il glove box, come si chiama in italiano, il cassetto porta documenti o pistole nei film americani. Sali lungo il montante del velo. Dopo vedete perché penso che la montiamo una delle due. Ok, questa roba qua... Ah, vedi, ecco, questo qua è un piccolo tool di plastica per scardinare via la macchina, no, per aprire le plastiche della macchina proprio e far passare i cavi dentro. Ci servirà. Figata sta qua 360. Non è tanto utile in marcia, dove immagino stia dritta a guardare la strada, ma in un parcheggio immagino che possa pattugliare guardando anche gli altri finestrini. E non so se arriva il ladro che ti rompe il finestrino dietro per rubare uno zaino, e lei si gira da davanti, lo guarda dietro. Insomma, cose... Bella, ma in realtà vorrei montare l'altra. E adesso vedete perché. L'altra dovrebbe essere la classica dashcam da macchina, quindi niente motori, niente cose che la girano, ma proprio semplicemente riprende la strada mentre sei in marcia e riprende il parcheggio mentre sei parcheggiato. Però vedete che, ecco, lo vediamo già dalla confezione in realtà, che sono due unità. Cioè quella davanti, con lo schermo per vedere le cose, che inquadra la strada sul davanti, e quella che inquadra di dietro, che si mette, penso, in zona della targa, o dietro comunque la macchina. E vedete che c'è un po' il dual channel recording. E tra l'altro questa A510 dovrebbe avere delle performance in bassa luce, e quindi gestire i chiaroscuri, soprattutto, non so, gallerie, entrate e uscite, ponti, quelle situazioni in cui c'è il chiaroscuro appunto, come gamma dinamica e come visione in scarsa luce. Che comunque su una dashcam da macchina hanno il loro senso. Esatto, ha proprio l'HDR e monta sensore Sony, questo IMX675, che è appunto il sensore di immagine prodotto da Sony, che sicuramente è una garanzia. GPS, ADAS, integrati, controllo via applicazione, sorveglianza nel parcheggio, consuma in teoria talmente poco che puoi lasciare la macchina mesi e non dovresti trovare la batteria morta. Questo è il classico cavo USB, porca vacca, lunghissimo, lungo 6 metri, con... Ah, però... Ah, ok, questo non è il cavo USB. Guarda i connettori, vedi, c'è uno tondo, che sembra tipo una USB-C grande alla metà, e uno addirittura fatto così. Questo qua è palesemente il cavo per connettere la fotocamera anteriore a quella posteriore. E infatti sulla posteriore trovo proprio il cavetto che va qua dentro. Yes, quindi questo qua deve attraversare la macchina, da davanti a dietro. Quella fotocamera va dietro, questa fotocamera va davanti, anche lei piuttosto sexy come look, però che roba. Tutti i tastini per il menu e le varie impostazioni, credo. Questo è lo schermo. Questo è un grande pulsantone che magari è tipo quello per l'emergenza, cioè che se lo premi lei si salva quello che è successo negli ultimi 15 secondi, non so, tipo se hai appena fatto un incidente. Che altro dire, è una dashcam. Ok, siamo nella fiesta, partiamo. Lei è quella che va davanti e io lavorerei da queste parti, tipo così. Poi qua va lo specchietto retrovisore a coprire tutto e mi sembra abbastanza fattibile. Allora, quelle robe che avevo detto essere stencil. Ah, tra l'altro ci regalano la scheda SD da 64 giga in confezione. È sempre inclusa con tutti gli acquisti. Queste robe qua non sono degli stencil, ma sono obbligatorie, cioè sono proprio quello che consente alla dashcam di rimanere aderita al vetro. Puliamo in maniera professionale la superficie con alcol e prodotti chimici. Abbiamo detto qua, sotto al telepass, allineata col telepass, mi piace. Figo, è un adesivo che è solo elettrostatico, non è adesivo veramente. Poi questo, che effettivamente la colla ce l'ha, all'interno del cerchio. Mazza, chi lo muove più? Quindi poi lei si attacca così. Rimettiamo anche lo specchietto retrovisore. Beh, 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 mi può piacere. Al che il i cavi, in realtà, plurale, perché da qua partono entrambi a giuggino di gomma, però dobbiamo proprio infiltrarci nelle plastiche. Allora, la USB-C che se ne va qui dentro, praticamente, nel tetto della macchina. Facile! Ah, beh, qua è tutto flessibile. Poi passo di qua di sotto, giù per di qua. Da qui però dove vado? Allora, in teoria, sta macchina, qui c'è il glovebox, che sembra il normale portadocumenti della macchina, ma in realtà, se io prendo le pareti e le schiaccio verso l'interno, ecco, lui scende e qua dentro abbiamo la scatola dei fusibili e tutta quanta l'apertura che ci consente di andare a mettere le mani dentro. Ok, dovremo esserci. Questo dopo lo facetto, insomma, lo chiudo. Sto finendo di passare il cavo qua nella scatola del cambio. Abbiamo fatto tutto il giro, non si vede più niente. Super, super easy. Beh, beh dai, beh dai, resterà un minimo ovviamente l'uscita, però, cioè, esce e va subito nel coso. In realtà, avremo anche il cavo per attaccarla ai fusibili. Magari un giorno che non piove lo farò. Il cavo USB lo buttiamo là, questa torna su e lei... Ah, guarda, si è già accesa, è già attiva ovviamente perché abbiamo attaccato la USB. C'è una selezione del linguaggio molto Android a download up. Facciamo subito. Please insert memory card, applicazione Europa per iOS, ovviamente c'è anche per Android. Ok, anteriore montata, ora va passato semplicemente il secondo cavo nella altrettanto facile guaina qui. Da lì davanti fino al bagagliaio per la posteriore. E attaccata anche quella posteriore, non drittissima, abbiamo dall'applicazione il controllo. Posso... Allora, questa qua è quella davanti. 2592x1944, quindi risoluzione 2K, HDR però. Vabbè, adesso siamo dentro al parcheggio quindi non è che ci sia molto da vedere, ma tanto anche fuori con sta giornata uggiosa. Ma, tastino per girare, tadam, vediamo anche dietro. Come vi dicevo, non drittissimo, ma abbiamo la doppia fotocamera, doppia visuale, HDR cose varie, ovviamente lei registra quando vede gli impatti, quando vede il movimento, si può mettere in filigrano la velocità, le coordinate GPS e tutte quelle robe lì. Ha un sacco di impostazioni, ma alla fine è una dashcam, quindi mi servirà, spero mai, ma in caso di incidente è lì, è pronta e registra. Boh, in descrizione vi lascio il link alle due dashcam e a lui, che è una roba separata. E noi torniamo ad aprire pacchi. Proseguendo, questi due pacchetti in realtà sono abbastanza la stessa cosa. Questo è un costosissimissimo microfono Sony per fotocamere Sony. essenzialmente. E questo, indovinate che cos'è? È un altro microfono Sony ancora più costoso. Questo qua costa tipo, allora vediamo se c'è scritto, ah esatto, eccolo qua, l'adesivo. Amazon Warehouse Deals l'ho preso usato, l'ho preso con l'usato di Amazon e lui usato costa il doppio più 10 euro rispetto a questo, nuovo. Allora, questa è la mia Sony ZV-E1 la quale io uso in accoppiata a dei DJI mic, questi qua sono di prima generazione per l'audio. Vedete che adesso lei sta bla 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 ricevendo il mio audio ma da dove lo riceve? Da questo microfono qui che va dentro un Tascam DR-10L che è questo ottimo lavalie con una qualità audio molto migliore dei DJI mic. Nel DR-10L io registro già internamente su una scheda SD e questo è l'audio che voi poi sentite nel video ma per una questione di sincronizzazione e talvolta di comodità sono in una fiera, sono all'aperto, sono lontano dalla fotocamera vedete che dal DR-10L esce questo cavetto che se ne va nel trasmettitore del DJI mic e poi il ricevitore è lì sulla Sony. Tutto questo è molto bello però è un po' macchinoso diciamo. Tutto questo cambia con i microfoni Sony. Questo è il vecchio modello nonché microfono preferito da Alessandro Morolla che mi ha detto prendilo assolutamente perché è una figata ed è quello che ha l'audio migliore quindi ecco il microfono che costa meno ha l'audio migliore rispetto al microfono che costa di più. Allora sono dei microfoni fighissimi perché vedete che un microfono non è il classico microfono shotgun come può essere il mio caro vecchio Rode che prima o poi venderò magari. Questo è il classico microfono shotgun. Se gli tolgo l'imbottitura ci accorgiamo che dentro è praticamente un tubo con il microfono qua in cima e direzionale e puntato verso in avanti e tutte cose. Questo invece se vedete non ha niente qua sul davanti è chiuso ma ha tanti microfoni qua sopra sopra però e tutti allineati idem lui lui li ha sempre qua sopra messi a rombo invece che che allineati e questa è la principale differenza tra i due microfoni. Poi rispetto ai tempi che furono qui io sul mio vecchio Rode avevo tutte queste graffe di plastica per permettere al microfono di essere un po' ammortizzato mentre adesso è tutto embeddato nella basetta se vedete questa qua si muove sballonzola ed è incredibile la tecnologia quanto abbia fatto passi avanti questo vecchio microfono si attaccava sopra la macchina fotografica con semplicemente un supporto metallico e poi c'era il jack questi microfoni di nuova generazione se vedete hanno il piede protetto perché se io aprissi il piede guarda qua questo è uno hot shoe cioè ha tutti quei contatti che vanno a parlare con i contatti che ci sono qua sulla fotocamera e non c'è bisogno di nessun cavo esterno io questo qua lo piglio lo metto e si parlano con la fotocamera in maniera digitale 32 bit profondità qualità incredibile insomma è tutto digitale e figo ma non vi ho ancora spiegato sta questione dei microfoni che sono rivolti verso l'alto e messi a forme strane funzionano un po' come Starlink avete presente che Starlink la parabola Starlink non è un'antenna ma sono tante minuscole antennine che dopo facendo differenze di fase una con l'altra permettono di fare un grande segnale e andare fino allo spazio ecco esattamente la stessa cosa circa nel senso che questo array di microfoni messo così qua sopra permette di scegliere da dove vuoi ricevere i suoni e infatti vedete che qua sul retro qui sul retro abbiamo ah vabbè digitale analogico lo terrò sicuramente sempre in digitale abbiamo già dei filtri che si possono applicare low cut noise cancelling oppure off un'attenuazione di tot decibel l'audio level chi se ne frega audio level automatico tra l'altro è una bomba vedete questi disegnini qua questa qua è proprio la forma di da dove deve ricevere l'audio in pratica se metto questo switch così lei riceve l'audio da tutto attorno questo cerchio è tutto attorno se lo metto così lo riceve solo da davanti vedete quel simbolo vuol dire solo da davanti e questo simbolo vuol dire da davanti lo prende lontano e ad ampio spettro mentre da dietro giusto se c'è una persona che sta parlando dietro la fotocamera qua vicina vicina quindi è molto un setup da vlogging questa impostazione il nuovo microfono della sony quello a palletta per quanto abbia l'audio peggiore ho visto mille video su youtube audio peggiore lui e costa uno scaterbo di più ha un botto di pattern in più solo davanti ma proprio stretto solo davanti un po' più largo solo davanti larghissimo che proprio prende anche le macchine che passano nella strada a fianco o mini direzionale solo da dietro tipo se sto parlando e spiegando cose con la fotocamera così questo è sia davanti sia dietro ma non ai lati questo è un left right insomma tutta una serie di pick up pattern diversi lo terremo anche lui in digitale tutto molto bello il grande plus l'unico motivo per cui ho preso questo in realtà è che lui ha quattro canali a differenza di lui che ne ha due essenzialmente questi microfoni sono estremamente potenti a eliminare i suoni che non vuoi eccolo qua adesso ho messo quello più più tondo e posso proprio impostarlo a quattro canali yes e adesso vedete che la fotocamera mi sta proprio prendendo quattro diverse tracce audio da un unico microfono e cosa vuol dire? vuol dire che se io registro adesso il microfono è impostato in audio solo da davanti provo a fare un po' un suono costante adesso mi state già sentendo con questo microfono tra l'altro quindi ditemi anche come si sente in un ambiente con un po' di echo come lo studio però se io faccio un suono costante tipo avete visto? mentre giro la fotocamera quanto mi prende solo mentre sono da davanti è incredibile sta cosa eh se lo metto come omine in direzionale dovrebbe rimanere abbastanza costante per tutto il giro ecco la grande differenza di questo microfono che dovrebbe avere la qualità audio un po' peggiore rispetto all'altro però questo ha le quattro tracce audio e le quattro tracce audio sono importanti perché le prime due sono sempre come io le imposto quindi stereo mono in base a come io regolo la ghiera qui la terza è sempre omni direzionale cioè qualsiasi sia l'impostazione qua la terza registra sempre in omni direzionale e la quarta registra sempre omni direzionale meno 20 decibel quindi la terza e la quarta sono in realtà tracce di backup per salvarti il culo per quando ti dimentichi e sono sicuro che mi succederà per quando sei in giro a vloggare e ti dimentichi che avevi impostato il coso solo in avanti e tu stai parlando dietro la fotocamera o che l'avevi impostato solo indietro e tu stai parlando davanti alla fotocamera e lui non ti sente nulla di quello che dici avere una traccia sempre attiva sempre registrata che registra omni direzionale salva la clip ti salva il culo in ultimo non voglio tenere questo video troppo lungo ma ne approfitto per mostrarvi un altro paio di cosettine che mi sono arrivate che purtroppo ho già unboxato in realtà non sarebbe proprio da video unboxing e sono allora c'è questo coso fighissimo è un piccolo NAS di Terra Master semplicemente un piccolo NAS però mega potente perché ha la 10 gigabit in uscita così come 10 gigabit al secondo sono anche le porte USB e le cose varie e essenzialmente se io svitassi la vitina magica e poi lo aprissi in questa maniera è un NAS allo stato solido cosa vuol dire? vuol dire che ha 8 slot per 8 NVMe vedete che ne ho montati solo 3 però 1, 2, 3, 4 giro 5, 6, 7, 8 NVMe puoi reggere puoi farti uno storage server piccolo e silenzioso in casa con delle performance assurde e l'altra cosa che ho comprato sempre da Amazon è la fascia cardio di Garmin eccola questa cosa qui ha un sacco di sensori qua penso nella parte centrale nella parte centrale ha sicuramente le batterie che sono delle batterie tampone tipo quelle da orologio però a litio quindi penso che siano esattamente quelle degli AirTag non lo so non ho ancora approfondito perché ci dovrò pensare tra mesi al cambio batterie che altro? è una fascia cardio elastica ha l'accelerometro il giroscopio quindi ti migliora anche la precisione della rilevazione della falcata mentre corri il tempo di contatto col suolo quelle cose lì non sono sicuramente un atleta professionista ma ho detto hey ho l'orologio Garmin perché non prendere anche la fascia Garmin che si connette all'orologio tra l'altro hanno un loro protocollo a bassa frequenza a basso consumo non usano il bluetooth è fighissimo dal punto di vista tecnologico perché è una cosa molto Apple la fascia vedete che ha questi due grandi pad uno qua e uno qua per la misurazione del battito cardiaco ovviamente però il bello è che nel momento in cui tu la indossi lei si accorge di essere indossata e si accende e si connette all'orologio quindi è figo perché come le airpods te la metti addosso ed è accesa te la togli ed è spenta quando è accesa si connette direttamente all'orologio o all'applicazione però è più figo l'orologio perché io vado a correre senza telefono niente niente di particolare però è stato proprio figo la prima volta che non capivo come connetterla ho detto ma da dove si accende ma cosa devo fare devo togliere una linguella di plastica e c'era scritto indossala e la vedrai comparire e per questo episodio di cose fighe tecnologiche è tutto per questo episodio di Marco fa acquisti discutibilmente sensati pollice in su se il video vi è piaciuto pollice in su per la mia povera fiesta del 2008 che adesso se fa incidenti posso dimostrare che non era colpa mia perché posso fare i video con la dashcam e per l'audio dei vlog migliorato almeno vorrei cercare di uscire più volte con la Sony perché è tanto comodo uscire con l'iPhone l'iPhone è una fotocamera comodissima ma vorrei uscire più volte a vloggare usando la Sony e questo me lo consentirà assieme a un paio di cose che ci sono in quei pacchi lì però devo fare la boxing sull'altro canale su Marco Romboli quindi seguitemi anche sull'altro canale dedicato all'aviazione per questo video è tutto ciao a tutti ciao a tutti